La parte che mi preoccupa è che l'Unionese ti dà la calma, mi preoccupa tanto, conoscendo l'Unionese. Però, detto questo, io lo puoi, sembrava tranquille. Secondo me questo progetto ha una particolarità, ed è un peccato che io dica questo, che sia una particolarità. C'è un'attenzione in ogni piccolo particolare da parte di Antonio in mezza. Io mi ricordo la prova costumi che Antonio sceglieva le nuance, i colori dei vestiti in base alla scenografia, ai mobili e tutto quanto. Quindi, come dire, le cose vengono bene anche perché c'è una passione, una necessità, ma anche un lavoro duro e attento rispetto a quello che si vuole fare. E io in questo devo dire ringrazio Antonio perché in tutte le cose che ho fatto con lui, anche in qualunque niente, per esempio, ma anche nella fame e nella sete, c'era sempre un lavoro di questo tipo che secondo me è quello che porta a far diventare un progetto veramente un progetto speciale.